A Canicatti domani manifestazione di protesta per denunciare le criticità dell'ospedale Barone Lombardo. L'iniziativa è del comitato locale pro-ospedale, ma registra l'adesione del cartello sociale della CNA, oltre a quella dei sindaci dei comuni di Castrofilippo, Naro, Camastra, Ravanusa, Campobello di Licata, Grotta, Racalmuto, Degli e Serra di Falco. Comitato pro-ospedale di Canicatti che chiede che vengano assicurati in continuità i servizi sanitari territoriali di base e che l'ospedale Barone Lombardo sia efficiente e non una struttura a mezzo servizio. Così viene definita a causa della progressiva chiusura di unità operative e delle difficoltà che si riscontrano per quelle rimaste, dal pronto soccorso all'osteitrice, ginecologia, alla psichiatria. La questione è sempre quella della carenza di personale, soprattutto medici. Il comitato pro-ospedale chiede che la struttura di Canicatti sia messa nelle condizioni di garantire un'assistenza sanitaria efficiente ed efficace alla collettività, non solo quella di Canicatti ma di tutto il comprensorio. Una protesta, come dicevamo, cui è aderito il cartello sociale della provincia di Agrigento, sempre sensibile al tema. Anche la CNA ha deciso che parteciperà alla manifestazione per sensibilizzare il governo regionale a potenziare il Barone Lombardo. Va garantita un'adeguata e moderna condizione logistica strutturale in termini di apparecchiature necessaria per offrire il livello di assistenza sanitaria che merita nel rispetto anche del consistente bacino di utenza a cui è rivolto il prezioso servizio, ha dichiarato il presidente della sede locale della Confederazione Geronobile, assicurando una significativa mobilitazione di dirigenti locali e associati che si uniranno al corteo che partirà domani mattina alle 9.30 da Piazza 4 Novembre.